Questa iniziativa di festeggiare insieme i duemila anni della redenzione mi sembra una cosa importantissima. Credo che una cosa importante è questo. Una delle ultime preghiere di Gesù Cristo a suo Padre prima della sua passione e quindi appunto della nostra redenzione è che tutti siano una cosa sola, che tutti siano uno come io e te. Gesù ha pregato così non solo per gli apostoli ma per quelli che crederanno per la loro parola e quindi per tutti i cristiani, per tutti quelli che portano il nome di Gesù Cristo. Credo che sia importantissimo avvicinandoci a questo anniversario così importante dei duemila anni della morte e della resurrezione di Gesù di essere insieme, di imparare a essere insieme. Questa iniziativa mi sembra ottima da questo punto di vista che aiuti cristiani di varie chiese a pensarsi insieme.